Ammesso che questo possa esistere Ernesto Bozzano, 1862-1943, il maggior rappresentante dello spiritismo scientifico, ammesso che questo possa esistere. Fu un positivista rigoroso, che vedeva nel sistema di Herbert Spencer, autodidatta come lui, il suo Vangelo. Dopo un rifiuto e poi parziale accettazione della trasmissione del pensiero, Bozzano iniziò un periodo di positivismo illuminato e partecipò ad alcune sedute medianiche. Nel 1893, attraverso la medium Attilia Montaldo, si presentò per scrittura automatica la madre di Bozzano, da lui adorata e morta da un anno. L'entità gli ripeté le ultime due righe dell'epigrafe da lui appena posta sulla sua tomba e gli lasciò un messaggio. Continua per la nobile via in cui ti sei messo. E questa è la tua missione sulla terra. In Bozzano scomparve ogni dubbio e divenne uno spiritista convinto. Commento. Per chi vive nel trionfo della mente ed esclude l'oltre, la medium Attilia Montaldo, l'essene nella mente del Bozzano, l'epigrafe scritta sulla tomba della madre. Per chi vive nel trionfo della madre.